E ragazzi, come va? Io sono FeriNiki E io sono Steph, e chi si giochiamo a Roblox E preparatevi perché oggi giocheremo a lobby più grande e più famoso di tutta Roblox Vi dico soltanto 645 livelli che ovviamente non andremo a fare tutti in un singolo episodio Perché credo che sarebbe totalmente impossibile Quindi divideremo questa specie di mappa in due, tre video Vediamo un attimino quanto sarà lungo Ma io inizierei subito, voglio vedere subito di che pasta è fatto questo posto Quindi andiamo, guarda per ora Oh mamma mia, ma c'è l'oceano di sotto, fa un po' di paura, eh Fa abbastanza impressione, fa un aspetto un po' strano, un po' strano Mette ansia, mette più ansia rispetto a uno binormale Ok, se noi ti abbiamo la barra in alto, l'hai vista? Due di 645, manca poco Mamma mia, ma non finiremo mai Guardate Rimaniamo tre giorni qua Io voglio farlo vedere da dezoomato perché è la cosa più impressionante Tutto questo sarà da fare, noi siamo quei puntini minuscoli lì in basso E tutti questi sono dei livelli da fare Siamo pronti? Sì, assolutamente Allora Tin 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 Credo che aumenti la difficoltà man mano che andiamo avanti Beh sì, sto notando che i primi comunque sono abbastanza semplici Sì, ci parte con roba semplice Mi sembra giusto, certo Vediamo quanti livelli riusciamo a fare di fila senza morire, ti piace? Sì Un esperimentino, sei curioso? Adesso morirò al prossimo Esatto Perché quando si fanno queste sfide si muore subito Mi sembra giusto Si scivola in qualche modo strano Esatto, esatto Oh, mi fa male la gamba E cadi E cadi nell'oceano, mangiato da uno squalo Che stavo cadendo davvero Mi ero incasorato in un In un buchettino minuscola Ed ero quasi giù Siamo al 9 E ancora 0 morti Andiamo, andiamo, andiamo Stiamo bravissimi E insomma Guarda il 10 Volevo dire, stiamo andando benissimo Invece mi è uscito Stiamo bravissimi Ok Ok Dovevi dire che il 10 ha il numeretto? Ah sì, della serie Sì, al 10 Su 645 Manca poco Non è bene Guarda, due minuti e hai finito la mappa Tranquillo Sì, sì Sì, vicino Alla fine Quindi al traguardo Hai notato che abbiamo una barra dell'expo in basso? Sì, l'ho notato anch'io Ma non ho minimamente capito a che cosa può servire Ovviamente Perché io adesso sono al 90% Penso pure tu No, io ho l'82 Perché sono migliore Perché fai più esperienza di me? Perché sono migliore Io praticamente Sai cos'è successo? Eh Che ormai sono stata Anzi, mi autoproclamo la regina degli hobby Quindi, vedi Faccio più esperienza di te Tutti capiscono che sono più brava di te Ok E mi sembra giusto che mi venga riconosciuto, no? Nel mentre ti ho già seminato e sono a livello 2 Così impari Bravo Regina degli hobby Regina dello schifo Regina degli hobby Regina della puzza Sei geloso Sei geloso e invidioso Perché tu non sei bravo Regina delle merendine mangiate Eh, quello è vero, sì Sì, perché ne mangio davvero tante Decisamente troppe E al ventiduesimo livello Sono caduto Cioè, è difficile? No Assolutamente no Capito? Sei un pollo tu, insomma Ho iniziato a prendere un po' troppo la routine L'ho fatto con superficialità E sono caduto Vediamo se Ferinichi Sarà davvero la regina del hobby E mi batterà Attenzione No, stai zitto Mi stai mettendo ansia, ok? Mettiamone un sacco di ansia Non vado più avanti se mi metti ansia Le manca un salto Tensione, ok Devi fare questo rosso Se fai questo rosso mi hai battuto Se cadi Abbiamo pareggiato E adesso sicuramente cadrò 1, 2, 3, 4, 5 E ce la fa Mi faccio un auto applauso Perché penso che ci voglia Penso che ci voglia 23 livelli di fila senza morire Complimenti Vediamo quanto avanti ancora Riuscirai ad andare Sono proprio curioso Io accelero un pochettino Ciao, ci vediamo dopo Che altrimenti qua non arrivano quelli Sei morto di nuovo? Sì, è una di quelle mappe Dove chi va piano va Stano e va lontano Capito? Quindi non è fatta apposta Per uno chef Che vuole sempre andare di fretta Questo è il primo Un po' difficile È un po' particolare Sono stretti stretti Quale? Quale sei? Questo è blu Vai Ok, oh mamma mia Attenta, eh Ok No, non li so fare Salti così precisi Non esageriamo Ok 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 Non li so fare così precisi Non esageriamo Accidenti È talmente facile Che io faccio i salti in giro a volta Ti piace proprio farti le nuotate Vero? Eh sì, c'è C'è un bel mare Molto tranquillo Aspetta, ci devo riuscire Un salto al contrario Uè No Fermi Fermi tutti Che caschiamo qui Che ancora non sei morta Vieni qua C'è anche Edo il magnifico Che sta parkurizzando assieme a noi Vieni da Steph Che ti dà un bel abbraccio Vieni, vieni qua signorotta Andiamo, va Forza Ok, si Già qualche salto un po' più lungo Già qualche salto un po' più lungo Interessante, interessante Oh mamma mia Ti ho visto rischiare tantissimo lì Stavo facendo finta di nulla Pensavo non mi avessi visto nessuno Eh no Sei quasi morta lì Non mi aspettavo un salto così tanto lungo Quindi l'ho preso No Mamma mia Che succede? Il consolino mi ha quasi ucciso Eh bisogna stare attenti Perché qua se ci si salta ci si ammazzato Anche questi sono lunghetti E se sbagli dove saltare potresti fare la prima morte Rischi per fare i nicchi Iniziano a diventare un po' più complicati Perché i salti sono più lunghi Quindi devi essere molto più preciso insomma I rischi per fare i nicchi arrivano signori Attenzione Siamo arrivati al 40 E iniziano ad essere complicati finalmente Ma c'è una cosa proprio strana Consolino Facci vedere Vai Toglici i dubbi Sto usando il consolino come cavia Io non vorrei dire ma penso che tu lo stai Secondo me basta correre ok Però non voglio scoprirlo Lui lo fa saltando E infatti è morto E infatti cade in mezzo Io ci provo Sì funziona Aspetta Vai 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 Si andava fatto correndo E questo però no No questi sono più lontani Ma c'è una Ah No aspetta Aspetta questo è complicato Questo è il primo difficile Questo è il primo difficile Perché io salti così stretti Non penso di essere in grado di riuscire a fare La prima morte di Ferrenichi A livello 41 Siete pronti? No vedi Eccola Io penso che rimarrò tre quarti d'ora qui Perché questi livelli sono proprio il mio punto No ma questi però Mi dispiace dirlo Cioè è anche tosto Perché fine 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 Cioè come fai? Come? Devi gestire il salto Grafica Cioè in quadratura Scusami consolino Ti ho fatto morire E dopo quella meraviglia Dove si rimasta qualche minutino È vero Ne abbiamo un altro simile Ho fatto subito Non lo puoi provare Ok va bene Allora qui dove devo andare Lady Tink ti darà una mano Dai però questa è più semplice Ma porca miseria Ma perché quando dico che è semplice schiatto? Bianchi o neri? Bianchi o neri? Facciamo una scelta Vai Edo Bianchi Bianchi Assolutamente bianchi Perfetto Ma penso che puoi andare anche neri Ok Ok va bene Lo fa per capito L'abbiamo fatta più complicata del previsto Oh no Il consolino è caduto a fianco a me Oh mamma mia Oh no L'ho visto cascare di sotto Ok Cioè siamo seri? Eh lo so Vi prendete in giro? Eh lo so Oggi sono tutti in questo stile Fatte la posta per fare i nichi Zitto Erano più fuori che dentro Non importa Anche adesso Zitto Porca miseria Che mi fai sbagliare apposta Zitto Mi fa silenzio Anzi al massimo mi fa una musichetta epica Di accompagnamento Ok Te la faccio adesso Devi andare No, qui devi scendere il colore Giallo Ma secondo te sono tutti? No, secondo me ogni volta che faccio la musichetta Tu la zecchi, vedi? Adesso torna e ti rifaccio la musichetta Allora, giallo, il secondo non è di certo rosso Ok, allora, pronta Giallo Che cavolo Non funziona È sempre giallo Perché secondo me la devi cambiare, capito? È sempre giallo, è sempre giallo No, secondo me non è sempre giallo No, no, vai dritta su gialli Fidati Vai, vai, vai Vai, vai Vedi? È sempre giallo Giallo, giallo e poi non lo so Siamo al 50, ragazzi Mamma mia Zitti, zitti, non ero accorta Siamo arrivati già al 50 E ti ho visto cascare di sotto Eh, non è vero No, ho visto uno Steph volare nell'oceano Ho visto uno Steph volare nell'oceano L'occhio ti ha tratto in inganno Senza ombra di dubbio No, no, eri proprio tu Eri proprio tu Era una persona simile a me Era il mio fratello gemello Sì Che si chiama Steph Ah Steph Non lo conosci? No, perché non esiste Te l'ho presentato Allora, guarda che esiste solo nella tua mente Steph, il fratello di Steph Allora, è che sta succedendo? Sì Stando qua troppo all'aria aperta in mezzo all'oceano Ti sta arrivando troppo assalcedine addosso E quindi stai iniziando a dar di matto, capito? Avrebbe senso Eh, sì Secondo me è proprio quello il motivo Opla Noi adesso Quante volte muori in questo? 15 1 2 3 Togliti Oh Non hai visto come ero io? No Sono finita graffato Usando tutto quello che hai 1 2 3 3 4 5 6 Olè Proprio trattengo il respiro Perché se trattino il respiro ti esce meglio Adesso Non toccare Ok Non toccare? No, era ovvio Aiuto Dannazione Poco poco sbagliato Allora, col destro e col centrale si cade Quindi in automatico dobbiamo andare qua E quindi in automatico qua E quindi in automatico qua E quindi in automatico qua Non ci sono rimasto male Pensavo di aver finito ormai Allora, è tutto dritto o cosa? È tutto dritto tranne l'ultimo Quindi devi andare Probabilmente qui Ok Qui? Oh no No vabbè Dai, sta diventando difficile però Ah, aiuto Sta diventando difficile E siamo solo al 53 Qua ci divertiamo davvero I consolini avevano ragione Perché avevo letto qualcuno che diceva No ragazzi Sono tutti semplici Quelli che avete fatto rispetto a questo Avevano ragione No, è vero Sì, gli altri sono molto semplici Vabbè, ci sta Li facciamo più che altro Perché sono fighi di ambientazione Esatto Questo mi sta facendo venire davvero nervoso Sì Però quando finirai tutto questo? Ma non lo finirai mai Siamo a 53 Non importa Non importa Quando lo finirai? Tra due settimane lo finisci Va bene Va bene Mi va bene così Non mangiamo Non dormiamo Quando lo finirai potrei dire di essere un vero mastro parkour Capisci? Ah, ok, sì E questa è una cosa importante nella vita Essere un mastro parkour No, che a questo livello mi sta allogorando Sì, sì Io non sopporto Cioè, sono morto già cinque volte tipo Dai, ciò fai Eccomi Olè Insopportabile Pallina Pallina, pallina Arancione Verde, rosa Blu E poi c'è il listino C'è anche il rosa E il giallo E adesso qua Cos'è? Eh, così Di precisione Sarà di non toccare i muri Esatto 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 Super precisi Forza per i nichi Io li odio questi No, no, sono bellissimi Andiamo Andiamo Fin quando non ci fanno saltare in cose fini fini Va bene Ok Ok, fatto Livello 60 E ho visto tramite il consolino Che non devi toccare il verde Ah, ok Io ci stavo già per saltare sopra Esatto Aiuto Hai giocato a qualcosa Allora, il personaggio Sì È come me nella realtà Goffo e branato No, brombolo Allora, io non lo volevo dire Perché penso che si usi solo in sardo Ah, peccato Quindi non vorrei che poi non lo capisca nessuno Consolini imparate brombolo Perché ci sta benissimo in questo caso Hashtag brombolo Cioè, memorizzatelo Anche se non siete sardi Dovete iniziare a usarlo Proprio nel contesto di una frase Significa una persona molto goffa E molto impacciata Esattamente come il mio personaggio Lo voglio iniziare a far usare in tutta Italia Ok Perché è bellissima come parola La renderemo la parola di Echip Voglio un massaggio È semplice Ma che è un massaggio Vieni a farmi un massaggio Come Rocky, capito? Che mi devi, capito? Mi devi fomentare per riuscire Ecco, grazie Adesso siamo perfetti Vado Vado Musica epica di sottofondo Io non ce la faccio Non ce la faccio Neanche col mio massaggio ce la fa Scusami Scusami Ok Allora, secondo me è quello È quello Quindi adesso io passo da qui Ma basta saltare Non devi per forza camminare Salta Ah, ma bisogna saltare Te lo sto dicendo da mezz'ora E non mi ascolti Guardami Ok Tu vieni qua E fai così Ah, ecco Nulla di più e nulla di meno E allora sì che è facile E poi di nuovo così Io pensavo ci dovessi passare e basta Era un tranello Se puoi saltare, puoi saltare Non è che ci vuole un genio No, basta Allora Ok Questo lo voglio vedere da te tutto di fila Vai Bravissima Continua Ok Sono lontanissimi i salti Mi piace il tuo doppio saltello di sicurezza Non sembra Ok Però sono lontanissimi E secondo te perché ho andato a te per prima Già me ne ero accorto io Vado Ok, ne manca uno L'ultimo Bravissima Yeeey E adesso ci sono al contrario Arrivo Perfetto, perfetto Guarda lì Non mi avevi ragione È proprio durina Eh, te l'ho detto Devi proprio capito Devi saltare all'ultimo Prendere la rincorsa Esatto, esatto, esatto Se non salti all'ultimo È meglio fare il doppio salto di sicurezza Che cascare in terra E parte Steph in tutta velocità È incredibile Nessuno lo ferma Tutto di fila Tutto di fila Tutto 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 di fila Yeeey Fatto Bellino questo Stanno diventando davvero divertenti Ok Siete sicuri Ok, ok Siete sicuri di questa cosa Io no Però ci provo Ok No, ma Allora Devi Come devo saltare Lo devi scalare Lo devi scalare Fino a quando non diventi in piedi E a quel punto salto in quello dopo È difficile Questi sono semplici Fin quando non ti fanno anche saltare Fin quando non ti fanno anche saltare Alla fine basta che stai un po' dritto Esatto, esatto È tutto regolare bene Ok Fatto Siamo vicinissimi a 70 Ecco Fin quando non ti fanno saltare Ecco L'hai chiamato Ma perché porti sempre sfiga? Fin quando non ti fanno saltare Perché porti sempre sfiga? Uno Due Tre Quattro Cinque No No, non lo posso fare io questo Voglio schippare questo livello Chiamo l'aiuto a casa Sei già andata più avanti di me Quindi Sì ma poi anche i salti laterali Cioè perché devi stare a mezzo di lato È certo Certo, certo, tutto Bravissima Non finisce più Bravissima Mamma mia Che salto audace Non ci credo l'ho toccato Ma adesso sono più stretti Cioè impossibile Dire Sì sono molto più stretti Allora andiamo un po' più veloci Cioè quanto manca? Facciamo sul serio Guardate un Steph che fa sul serio col parkour Mamma mia Tutto in avanzata Voglio recuperare Ferenichi Oh no Oh no Questi sono davvero stretti Cioè ma me l'ha considerato già fatto No no Non niente Ti stai Ti sta facendo male questo parkour Molto Mi sta facendo male allo spirito e all'anima Non sarò più la stessa dopo che La stessa La stessa Ok Dopo che chiuderò questo video Capisco Però dai Siamo a 68 Ce ne manca uno Ok Ce ne manca uno E dopodiché abbiamo finito Quindi non devi arrenderti Anche se sei scomparsa della webcam Anche se sei scomparsa Non ti devi arrendere Devi tornare E combattere Per questo livello 70 Ce la puoi fare Non ce la posso fare E se ne facciamo 70 video Sono 10 video E appunto Appunto Cioè quanti accidenti Lo vuoi finire Fa 40 video Desta mappa Ma ti sembra Ci saranno i consolini Che racconteranno Di quando Che avevano iniziato A guardare questi video Quello avevano 5 anni E poi lo finiscono a 45 Capito Le accompagnerà Per tutta la vita Con noi 60 anni Che cerchiamo ancora Di fare questo E non ci vediamo più Ok Esatto Mentre le veri Niki cerca ancora Di fare questo livello Io parlo con un consolino Che metto che si è comprato Il calendario Con i cioccolatini di Natale Anche lui Sì Ne abbiamo due Ne abbiamo due Sicuramente l'ha visto Da Instagram Perché abbiamo Abbiamo messo Una foto Dei nostri calendari Questo qua Quello della Kinder L'altro è troppo gigante Quindi non riesco A farlo vedere No fallo vedere Non ce la faccio Non ce la faccio Quindi guardate Soltanto questo Da domani Inizieremo a mangiarli Dato che domani È primo dicembre L'altro della Lindt Sì ok Ok però tu pensa A continuare No non ce la posso fare Per favore Morirò qua L'ho scritto anche in chat L'ho annunciato E ho detto che morirò qui dentro Nel mentre faccio vedere Anche i consolini Una cosa che ancora Non abbiamo messo su Instagram Ma che forse metteremo Prima che esca questo video In effetti Non ci ho pensato E in effetti Vabbè Pazienza Guardate Ce l'hanno portato dal Giappone Mentre Feriniki Impazzisce Io faccio la televendita Allora mi sto Mi sto preparando Sono tantissimi capitoli Di manga Tutti in giapponese Allora Chi Chi compra manga Lo saprà Il weekly Shonen Jump Ok volevo dire Solo quello Tu pensa a saltare Io ne mentre la faccio vedere Vete Non so se si capisce Quanto è grosso Ma è gigantesco Questi sono tutti I capitoli di manga Tutto in giapponese Ovviamente Quindi non potremmo mai leggerlo Ma è bellissimo da avere Da collezione Ed è fantastico Perché costa pochissimo Lì in Giappone Ce l'ha portato Un nostro amico Che era all'inviaggio E siamo troppo figli Di avercelo Perché amiamo il Giappone E questo tipo di cose E ne mentre Ferenichi Continua a saltare Ok è arrivata al punto clou Stai zitto Ok bravissima signori Sto per insultarti Come non mai Ne mancano soltanto Cinque salti Meno quattro Meno tre Meno due Meno uno E Ferenichi Ce la fa Yeee Cosa stai facendo No 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 Ok Pensavo Mi posso lanciare addosso Allora va bene Mi posso saltare con qualcosa Questo video sta facendo uscire Il peggio di noi Sì Soprattutto di me Comunque Che tutti pensano Che io sia una brava 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 consulina Tranquilla Invece mi fanno sclerare Con sti hobby Comunque Siamo a 69 Ci fermiamo Con il numero 70 Quindi andiamo Per l'ultimo E nessuno di due Deve morire Secondo te Si salta sul rosso O si salta sul bordo Sul bordo Grazie consulino Ok Ok bravi Eh ma devi saltare In questo bordo Allora è più comodo No quali Fai così Ok Dai che ce la facciamo Nessuno dei due Deve morire Nessuno dei due Deve morire Per l'ultimo Ho rischiato tantissimo 70 Questo era semplice Dopo l'altro Ce ne stavano Un po' più tranquille Insomma Ci stava Ci stava Ci stava E finita Mi sento stanca Fisicamente Come se l'avessi fatto Nella realtà Vero Sì sì Mi ha proprio stancato È una cosa incredibile È davvero bellissima Questa mappa Ci piace Una roba di salti Davvero difficile Le solite erano Abbastanza semplici E questo si fa davvero Sul serio Speriamo che vi sia piaciuto Questo video Nel caso ragazzi Lasciateci tanti likes Così capiamo se appunto Fare davvero Tutti i video Che servono per finirlo Secondo me sarebbe figa Come esperienza Come avventura Come video Diversi dal solito Quindi speriamo tantissimo Che l'avete apprezzato E ci fermiamo così Per ragazzi Vi riuscire così Se vi è piaciuto Scendici i miei like Questa è la prima volta Che avete il nostro video Potete considerare L'idea di iscrivervi Per non perdervi Gli altri episodi Ciao Alla prossima Ciao Ciao Ciao